C'erremo perché è scritto, ma noi dobbiamo accorciare la durata di questa dittatura, noi li dobbiamo cacciare via, noi dobbiamo cacciare via questo, questo regime è un regime! Sì, grande! E' il regime dei bagliacci, dei bagliacci! E' buffoni, i cogliacci buffoni, e' bruglioni, i cogliolacci proprio, e' merda! Allora io vi dico questo, questa piazza bellissima, senza maschera, ci doveva essere! In marzo del 2020 li avremmo portati subito, subito!